Siamo nella zona dove si fanno maglieria e lavori con la lana. Il Maddalena si occupa di tutto. Qui invece abbiamo il Sistere Agnese, le macchine da cucire industriali. Ti faccio un film? Stiamo preparando delle tende? E' lì dove dormono i ragazzi per emergenza. Oh bene. Ieri sera dormito senza niente. Qui si lavora anche. Si intrecciano i cesti. Bezzi. Sempre addiamo. Benvenuto durante il cuore show. Sponale. No, 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 no